chi siete cosa cercate qui qui non c'è nulla solo stanze abbandonate silenzi macerie e in mezzo il vuoto affascinante vero il vuoto come la vertigine prima di cadere il respiro che si spezza l'istante sospeso e dilatato prima del tuffo c'è una strana qualità di silenzio qui più denso per bucarlo serve il ferro arrugginito la calce sotto gli scarponi una latta calciata lontano la voce dell'abbandono una volta c'erano altre voci qui gli schianti e gli stalli delle macchine una volta qui era il tempo dei passi e delle sirene che tempo scorre qui adesso? tutto questo spazio bisognava fare spazio allora a tutto quel futuro cosa ne facciamo adesso del vuoto di queste ingombranti assenze? oltre quel muro c'è la città dietro a quella finestra il fiume oltre il soffitto c'è il cielo tutto intorno ci sono cose che riempiono lo sguardo qui dentro ci sono cose che lo svuotano così che mentre guardi non sai dove guardare e così ancora non sai trovare la risposta a quelle domande chi siete? cosa cercate qui? grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti